Entrate in campo delle due formazioni, sono le 17.30, di lunedì 8 maggio, ci troviamo a Bucchianico, incontro di calcio di campionato provinciale, giovanissimi, gironici, Bucchianico Calcio, Virtus Castelfrentano. Ecco, i nostri ragazzi vanno a salutare, ognuno ha la panchina avversaria, la panchina locale, la panchina nostra, in bocca al lupo! Grazie Giancarlo, grazie!